La seduta del Consiglio regionale della Campania ha approvato la proposta di legge di cui sono primo firmatario, lo scrive l'onorevole Franco Piccarone, presidente della Commissione Bilancio della Regione Campania. La Campania è l'unica regione d'Italia finora ad aver approvato questo provvedimento. La legge riconosce personalità giuridica, l'associazione dei circoli nautici e ne istituisce l'albo regionale. Attiva la consulta permanente per la funzione sociale del Mediterraneo e delle acque navigabili. Istituisce il premio annuale dei circoli nautici il giorno 11 aprile in occasione della giornata del mare. La neo approvata legge rafforza l'impegno istituzionale della Regione Campania a sostegno del rispetto dell'ambiente, della formazione sportiva dilettantistica, dello sviluppo turistico e dell'economia del mare e utilizza per lo scopo l'apporto dei circoli nautici con la loro azione per lo sviluppo di politiche e sostenibilità ambientale di Blue Economy di integrazione sociale. Lo scorso 23 giugno nel centro storico di Agropoli fu presentata proprio dall'onorevole Picarone la proposta di legge.